ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo mio nuovissimo video benvenuti sul canale mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche in questo modo non perderete più nessuna delle novità che puntualmente vado a pubblicare ebbene sì le vacanze stanno finendo sono già finite avete scattato centinaia di foto girato minuti e minuti di video siete rientrati a casa e avete archiviato o sul vostro pc o nel vostro nas con app oggi voglio farvi vedere come si può utilizzare il vostro nas personale per poter trasmettere i vostri contenuti appena citati alla vostra smart tv samsung intendiamoci il concetto ovviamente è lo stesso per qualsiasi smart tv ma io siccome possiedo una smart tv samsung serie 8 da 55 pollici vi farò vedere come poter visualizzare le foto e i video dal nas verso la smart tv questo tutorial ovviamente parla del protocollo di lna che io avevo già trattato in un mio precedente video se volete ve lo lascio linkato sotto in descrizione ma l'avevo fatto da pc oggi lo voglio fare da nas cuna perché qualcuno nei commenti mi aveva chiesto di fare un tutorial di questo tipo in quanto non riusciva a visualizzare file quindi foto e video dal nas alla smart tv il protocollo di lna è un protocollo che consente di trasmettere il flusso dati di foto audio e video dal vostro nas alla smart tv e può essere fatto sia tramite wifi che tramite rete lan io consiglio vivamente la rete cablata perché soprattutto quando si vanno a streammare dei flussi di dati molto pesanti come i file video magari anche girati in 4k il wifi sarebbe un po insufficiente quindi dovete riuscire a collegare la vostra smart tv con un cavo al vostro router una volta soddisfatto questo requisito quindi tv collegata tramite ethernet al router e archiviati tutti i file nel vostro nas se volete ditemi se avete bisogno anche di un tutorial di questo tipo cioè di come archiviare i file sul nas ve lo faccio tranquillamente quindi una volta fatte queste due cosette siamo pronti per impostare il flusso di rete verso lo smart tv tramite il protocollo il tutorial consta di due fasi ben distinte la preparazione del nas qnap e la visualizzazione su smart tv quindi la prima cosa che dovrete andare a fare è entrare tramite in questo caso io uso il qfinder pro per entrare nel qnap ma qualsiasi altro nas avrà la sua utility dovete entrare nell'interfaccia web del vostro nas perché dovremo andare a configurare alcune cosette per impostare il protocollo di lna andiamo sul pannello di controllo in alto a sinistra e scorriamo in basso alla sezione applicazioni quindi ci clicchiamo proprio sopra applicazione vi si apre questa interfaccia nel vts del qnap ci sono tutta una serie di voci la prima cosa che dobbiamo andare a fare è attivare il server di lna perché il nas fa da server per la smart tv perché è lui che trasmette i contenuti multimediali quindi in questa in questo menu di sinistra clicchiamo su di lna media server vado a memoria credo che questa applicazione di lna media server sia di default installata almeno nell'ultima versione del qts sicuramente sì la cosa che dobbiamo fare di lna media server abilitare il server multimediale perché questo deve essere ovviamente attivo in grado di poter streammare il flusso dati verso la vostra smart tv quindi cliccate su abilità dlna media server e poi applica per confermare la vostra scelta ora però il dlna media server per poter funzionare ha bisogno di una directory del nas di riferimento in cui voi avrete archiviato le foto e i video perché dovremo far puntare il dlna media server verso questa directory per poter fare questo quindi impostare la directory si va su gestione multimediale quindi la voce sotto e andiamo a cartella multimediale vedete io qua ho già impostato sul nas le due cartelle che contengono i miei elementi multimediali per poter aggiungere la directory quindi basta cliccare su aggiungi si apre una finestra in stile gestione risorse voi andate a scegliere il percorso della cartella che contiene i vostri file multimediali lo selezionate e cliccate su aggiungi vi deve apparire una cosa come questa e abilitate se non ce l'avete tutte queste voci foto musica e video in questo modo la cartella potrà streamare questi tre tipi di elementi se poi andate a cliccare sulla vostra cartella guardate io apro il file station vedete mi fa vedere tutti i file mp4 che sono poi i miei video di youtube che io ho salvato sul nas cosa veramente importante prima di di uploadare un file video su youtube salvatelo sul nas perché in questo modo ce l'avrete per sempre vi fa vedere tutti i video che sono resi disponibili per lo streaming verso la smart tv impostata la cartella non abbiamo ancora finito clicchiamo qui in alto a sinistra catalogo multimediale andremo a impostare alcune cosette sul server dlna la cosa più importante è questa la scansione in tempo reale cerca i nuovi file aggiunti alla libreria deve essere flegata perché tutte le volte che voi andrete ad aggiungere alla vostra libreria multimediale un file video o foto il server multimediale riconoscerà questa aggiunta farà la scansione e creerà diciamo così la miniatura del video in questo modo è pronto il file per poter essere trasmesso e visibile alla smart tv mi raccomando non cliccate su disattivazione catalogo multimediale perché automaticamente vi disattiverà anche il dlna media server che non sarà più visibile dalla smart tv quindi per riassumere per poter visualizzare degli elementi multimediali foto audio e video dal nas alla smart tv bisogna possedere un nas cunap aver trasferito questi elementi in una cartella del cunap attivare il server dlna impostato sul cunap e settare la cartella su cui si fa puntare il server queste sono le fasi sul nas l'ultima fase che rimane è godervi tutti gli elementi multimediali in particolare foto e video sulla smart tv andando a selezionare tra gli ingressi quindi tra gli input della televisione il server dlna che verrà visualizzato come un ingresso della vostra smart tv fatto questo la procedura di configurazione sul nas è ultimate quindi il vostro cunap è pronto e sta già trasmettendo o meglio è visibile come server dlna da parte della tv quindi adesso ci andiamo a recare davanti alla televisione per vedere i file da smart tv eccoci qua davanti allo smart tv samsung la cosa che dobbiamo fare è prendere il telecomando in mano una volta acceso la televisione e andare a selezionare il tasto degli ingressi ovvero degli input della televisione io ce l'ho qui in alto sulla destra ormai non si vede più perché è scolorito comunque selezionate gli ingressi vedete nella parte alta qui dello schermo vengono visualizzati tutti gli input della televisione io vado semplicemente a selezionare il media server che sto visualizzando eccolo qua TS469L che è il mio NAS cioè quello che io avevo impostato come attivo poi ovviamente ne ho altri ma vi faccio semplicemente vedere quello del tutorial che è il più semplice e funziona veramente bene quindi con le freccettine del mouse mi sposto su cunap TS469L e seleziono ok il televisore in questo modo entrerà nel server DLNA che io ho impostato del NAS vedete qua sulla sinistra dove sto indicando col mio dito avete tre voci musica video e foto io vado a selezionare sempre col telecomando la sezione video clicco ok sul telecomando stesso il televisore caricherà tutta la struttura del media server e vado a prendermi la cartella folder questa questa qui eccola qui ci clicco sopra e come vedete sulla sinistra dello schermo è apparsa o meglio appaiono le due cartelline che io avevo impostato nel NAS cunap in questo modo vado a selezionare render e lui mi aprirà come per magia tutte le miniature che il DLNA media server ha generato perché quando io vi ho detto di attivare la scansione automatica lui praticamente genera anche le copertine dei vostri video cioè prende un fotogramma e lo utilizza come copertina stessa per trasmetterlo alla Smart TV in modo che voi possiate ovviamente identificare il video qui sempre da telecomando vi postate sui vostri video ne faccio vedere uno questo per esempio cliccate su ok il televisore ha il suo player integrato e farà partire il video ecco questo è il video lo facciamo magari andare un attimo più avanti sempre da telecomando il televisore in questo modo sta riproducendo i video che sono nel mio NAS la stessa cosa la possiamo fare ovviamente per le foto e gli mp3 quindi per la musica andandovi a selezionare la relativa cartellina dove avrete archiviati questi elementi multimediali questo è tutto quindi per riassumere per poter visualizzare degli elementi multimediali foto audio e video dal NAS alla Smart TV bisogna possedere un NAS QNAP aver trasferito questi elementi in una cartella del QNAP attivare il server DLNA impostato sul QNAP e settare la cartella su cui si fa puntare il server queste sono le fasi sul NAS l'ultima fase che rimane è godervi tutti gli elementi multimediali in particolare foto e video sulla Smart TV andando a selezionare tra gli ingressi quindi tra gli input della televisione il server DLNA che verrà visualizzato come un ingresso della vostra Smart TV spero di essere stato il più esattivo possibile se c'è qualche dubbio scrivetelo come sempre sotto nei commenti io cercherò di rispondervi nel più breve tempo possibile se il video vi è piaciuto e vi è stato utile condividetelo su tutti i social in questo modo aiuterete altre persone a risolvere questo tipo di problema e a imparare una nuova cosa iscrivetevi al mio canale attivate la campanellina delle notifiche in questo modo rimarrete aggiornati su tutte le novità che usciranno io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video ciao